Va con Dio Non ti preoccupare per noi padre Io so come sopravvivere Sì? Hai imparato bene Ascolta Agar Ricordati le parole del Signore Guardalo Io l'ho benedetto E farò di lui Una grande razione Io l'ho benedetto Che c'è figliolo? È per Ismaele? Ti manca, vero? Anche a me. Sei preoccupato per lui? Anch'io. Vogliamo chiedere a Dio di aiutarlo? Sì, padre. Scegli un agnello che ami. Come ami Ismaele, offriremo la sua vita per la salvezza di tuo fratello. Lo scegli tu o lo faccio io? Lo farò io. Deve essere proprio uno che amo. Sì. E deve essere quello che amo più di tutti. Sì, in segno della tua fede. Sì. Non oggi, non oggi figliolo, non oggi. Dio provvederà per Ismaele. Sì. Sì.